Sono ed occhiali non vanno granché d'accordo, pertanto più o meno coscientemente vengono posto depositati dove la forza di gravità li conduce e dall'indomani ci sarà il primo piede sugli occhiali in barba rossi ed americani. Finito l'inevitabile giro di interviste, eventi, eccetera, tornati alla beffa e da realtà non resta che ricongiungere gli occhiali equamente spezzati a metà. Fallita la supercolla, si passa al saldatore a stagno, col quale si fondono le due metà da riunire, inserendo anche una graffetta per stabilizzare ulteriormente il tutto. Una lucidata con carta vetrata fina e si è pronti per sfoggiare un magnifico e solido rattoppo. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.